Teatro Carignano, 22-27 ottobre 2024, repliche accessibili. Cose che so essere vere, di Andrew Bovell, regia di Valerio Binasco. Al Teatro Carignano va in scena lo spettacolo Cose che so essere vere, con la regia di Valerio Binasco. Le repliche dal 22 al 27 ottobre sono accessibili tramite sopra titolazione in italiano e in italiano semplificato con descrizione dei suoni, audio introduzione, audiodescrizione in cuffia e tour tattile. La durata è di un'ora e 40 minuti senza intervallo. Trama e personaggi. Cose che so essere vere ha debuttato nel 2016 in Australia. È una commedia malinconica che affronta temi come la crescita, i legami familiari, la ricerca della felicità e la fragilità delle relazioni. Si svolge in una villetta nella periferia di Adelaide, in Australia, dove vivono i coniugi Bob e Fran Price. La coppia ha quattro figli ormai adulti, Pip, Mark, Ben e Rosie. La storia inizia dalla fine, il telefono suona e Bob non se la sente di rispondere. Si torna indietro di un anno. Rosie, la figlia più piccola, è in viaggio per l'Europa da tre mesi e decide di tornare a casa. È certa di avere una famiglia solida e serena. Ma, a suo ritorno, le crepe nelle relazioni tra i familiari sono evidenti e le tolgono ogni certezza. Ciascuno dei figli racconta le proprie sfide personali, cerca un posto nel mondo e definisce la propria identità, al di là delle aspettative dei genitori. I due coniugi devono affrontare una serie di eventi intensi ed emotivi. La famiglia ha costruito la sua felicità su verità nascoste e ora si scontra con l'infelicità più profonda. Scene e costumi L'opera si svolge nell'arco di un anno. Il passaggio delle stagioni è annunciato da una scritta proiettata su una grande tenda di frange che occupa tutto lo sfondo. La scena rappresenta l'ambiente di casa della famiglia Price. In fondo a sinistra c'è un divano, a destra c'è un frigorifero. In primo piano, a destra c'è un pianoforte. Al centro si alternano, grazie a una pedana girevole, il tavolo da pranzo con sei sedie, la cucina angolare e una poltrona. Tutto il palcoscenico è in vaso da piante e sul proscenio ci sono attrezzi per il giardinaggio, tra cui una cariola, un soffiatore per le foglie e un tosaerba. Attrici e attori indossano abiti contemporanei. Fran porta quasi sempre l'uniforme da infermiera. Bob alterna il pigiama a vestiti comodi e informali, una camicia a quadri, pantaloncini e cappellino da baseball. Rosie ha uno stile rock con gonne corte, anfibi e occhi truccati di nero. Pip indossa scarpe col tacco e pantaloni rossi sotto a un trench viola che non toglie quasi mai. Ben è vestito in modo elegante con completi costosi. Mark è in jeans e maglione scuri. Autore e regista Andrew Bowell è uno scrittore australiano contemporaneo di teatro, cinema e televisione. Le sue opere teatrali sono state tradotte e rappresentate in tutto il mondo. Valerio Binasco è direttore artistico del Teatro Stabile di Torino dal 2018. E' regista e interprete teatrale e cinematografico pluripremiato. Info, prenotazioni e biglietti. Per maggiori informazioni scrivici a accessibilità-teatrostabile-torino.it o chiamaci allo 011-516-9460. Prenota in anticipo i biglietti, specificando eventuali necessità, all'indirizzo biglietteria-teatrostabile-torino.it o al numero 011-516-9555. Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e l'accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio. Teatro Carignano, Piazza Carignano 6, Torino. Orari spettacoli, mercoledì e venerdì ore 20.45. Martedì, giovedì e sabato ore 19.30. Domenica ore 16. Martedì, giovedì, 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 giovedì.